bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo contest già è vero contest io sono allora come avevamo detto siamo arrivati entro oggi a 27 mila e 100 iscritti quindi ragazzi cosa regaliamo 10 euro ma non in scarta e no 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 non in scarta ragazzi in plastica ve li regaliamo no e no sono virtuali è un buono da 10 euro ragazzi che vi vogliamo regalare che potete utilizzare ricariche telefoniche su fortnite non guardi la webcam scusami su fortnite ricarica telefonica psn il portafoglio o xbox la cosa importante ragazzi che qua sotto lasciate solo un commento con la parola segreta viva le paperelle era viva le papere di gomma ma va bene mi raccomando ragazzi commentate devo scrivergliene le cose se non lo riesce commentate qua ragazzi domani alla live mattutina andremo ad estrarre il vincitore noi ci vediamo presto voi iscrivetevi ciao ciao